Il livello è salito di molto rispetto al Regional Day come prevedevamo, è un'esperienza che già dal primo impatto di questo primo allenamento ci ha lasciato veramente un bel segnale, quindi probabilmente questa nuova svolta dell'attività di selezione, cioè quella di riadunare tre regioni, tre, quattro regioni, metterle insieme e far allenare insieme in una giornata questi ragazzi è sicuramente assolutamente formativo, quindi credo che la strada sia giusta, il livello che ho trovato stamattina è molto buono, soprattutto una grande attenzione, il livello di allenamento, la qualità dell'allenamento è salita di molto, quindi credo che da un lato ci sia una crescita nei ragazzi, soprattutto vivendo questi momenti dal punto di vista proprio dell'intensità emotiva e dell'attenzione, dall'altro le nostre valutazioni riescono ad essere un pochettino più attenti, un pochettino più precisi. C'è qualcuno che potrà ricalcare le orme dei nostri fuoriclasse del presente e del passato? Ah sicuro, sicuro i presupposti ci sono, come ormai sappiamo avere i presupposti è già un punto di partenza importante, poi è chiaro che il curriculum, le opportunità, il lavoro farà la differenza, però ci sono già in questo gruppo che abbiamo visto stamattina ragazzi che hanno dei buoni presupposti e che hanno i requisiti per poter iniziare un percorso. Ringraziamo anche Mario Perchiero, prima di chiudere ovviamente è giusto darti gritto di replica a quanto ha detto Mauro sul derby, ma io non so con chi gioca la Juve oggi, credo che sia una partita per la Juventus di routine, quindi in bocca al lupo anche la Juve. Grazie Mario.